Vertenza IAB, secondo tavolo tecnico presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy con la partecipazione dell'azienda, le sigle sindacali, la Regione Puglia e la provincia di Taranto con IAB Italia che ha da tempo programmato il licenziamento di 102 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Statte in provincia di Taranto, da remoto per l'ente provincia il Vice Presidente Goffredo Lommuzio che ha ribadito che la provincia si schiera con il Governo e la Regione Puglia perché la situazione venga risolta dal suo canto il parlamentare di Forza Italia De Palma in un proprio comunicato affronta il problema e scrive è stata udita l'azienda che ha dichiarato di voler dismettere il sito di Statte. Tale decisione, fortemente contestata dai sindacati, ha visto il Ministero con grande determinazione invitare la società a una riflessione per rientrare in un percorso di accompagnamento sotto la guida dello stesso Ministero. Non solo la società ha colto la richiesta di ricercare un altro soggetto imprenditoriale che possa subentrare nella gestione del sito di Statte. Dal suo canto una dichiarazione congiunta di Valerio Dalò, segretario nazionale di FIMCISL e del segretario appalti Taranto Brindisi Pietro Cantoro. Secondo noi, scrivono i sindacati, la struttura di Bologna non è assolutamente sostenibile senza la produzione di Taranto e tramite l'influenza e l'intervento del Ministero che ha seguito le nostre richieste, continuano i sindacalisti, siamo riusciti a ottenere dall'azienda la possibilità di un percorso per avviare la procedura con cui si possa gestire il percorso e garantire ai lavoratori sia una copertura con ammortizzatori sociali che la possibilità attraverso uno scouting di cercare nuovi acquirenti. Grazie a tutti.